... ... ... ... Mamma mia quanto pesano queste due tavole! Sembrano davvero un macigno! Ma... Dov'è andata la maestra? È uscita per un caffè dieci minuti fa! Guarda, ste tavole pesano davvero dieci chili ciascuna! Maestro, possiamo cominciare? Pesano queste tavole! Ma mamma che pesano! Su inizia! ... Mosè! Eccomi, signore! Io sono il Signore tuo Dio, Dio di Giacobbe, di Isacco e di Abramo, e ti ordino, per il bene del mio popolo, di consegnare agli israeliti queste tavole che ti ho consegnato. Sì, sì, signore! Queste leggi, spiegherai, non sono per limitare la libertà del mio popolo, ma al contrario, sono al loro servizio, per permettere a tutti di vivere in armonia tra di voi e con me, che sono il vostro Dio. Abbiate cura di imparare la memoria, per non scordarle mai. Si fissino nella vostra mente, perché diventino regole di ogni giorno. Rispettatele e vivrete in pace e in armonia. Ma... ma sono difficili da imparare tutte e dieci! Fidatevi di me. Io vi ho liberato dalla schiavitù dell'Egitto. Io vi condurrò alla terra dei vostri padri. Io vi sfamerò e mi prenderò cura di voi. Voi dovete solo ascoltare la mia parola, perché con queste dieci regole io vi renderò liberi. Sì, signore, porterò le tavole al tuo popolo, perché questi possono impararle e ricordarle per sempre. Mmm, dieci comandamenti per essere liberi. Mmm, che strano questo Dio! Come possono delle regole rendere migliori la mia vita? Bah! Sì, che strano questo Dio!